Lutto a malo per un padre 29enne morto lunedì sera per un valore fatale. Tutta la comunità è sconvolta dalla notizia di questa giovane vita strappata ai suoi affetti. Fabio Pietribiasi, agricoltore sposato, padre di Gabriele di soli sei anni, era molto conosciuto in località Pini dove viveva con la moglie Rebecca. Il figlio si è sentito male lunedì 27 marzo nella sua abitazione di via Volpare. Da un paio di giorni solo qualche fastidio, quasi postumi di una lieve forma influenzale che mai avrebbe fatto pensare al tragico epilogo. Inutile l'intervento del 118 sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno provato a lungo a strapparlo alla morte con le manovre rianimatorie. Purtroppo tutto si è rivelato inutile. Stimato conosciuto lavorava nell'azienda agricola di famiglia. Grande appassionato del suo lavoro, in particolare dei mezzi agricoli, che guidava con grande perizia anche come conto terzista. Informata come diritto in questi casi, la procura di Vicenza avrebbe disposto l'esame autoptico.